Perchè avete deciso di partecipare a questa iniziativa della LUC? Perchè facciamo una giocaria e il nostro lavoro è di portare avanti l'impresa e di guardare come riusciamo a portare avanti la vita dell'impresa. Oggi è il giorno della finale, ma qual è stato fino adesso il momento più interessante del business game? È stato quando ci siamo divertiti, io parlo già di noi, siamo uniti come gruppo, speriamo di andare bene anche oggi. Il momento più interessante è i pomeriggi passati a studiare la strategia. Siamo tutti d'accordo che il momento più bello è quando aspettavamo l'esito, il risultato e quando vedevamo la nostra linea gialla e le prime posizioni esultavamo e facevamo i salti di gioia. e quindi eravamo ancora più contenti di andare avanti a giocare. Cosa vi aspettate da oggi? Cosa ci aspettiamo? Di vincere! Non lo so, vabbè, di vincere sarebbe troppo scontabile. È molto difficile, però daremo il nostro meglio.